Cosa? Cosa? Si sono teleportati! Veramente! No! Hanno un... Un... Un nuovo hack! Sì! Non è... Non c'è un... De... 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 Non c'è un De... De... Non c'è un De... Ma cos'è sta cheat? Dai! Non c'è un De... Non c'è un De... Non c'è un De... Non c'è un De... C'è questa è... E' quasi più comica che... C'è altro raga... C'è... Vabbè... Raga... C'è... Se... 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 E' quasi... Quasi su... Sì Bomba! P bags … Stop standing Io dure... Juak... Imaro.. Juak... I walk with precision... Tu... No! No that word... I kill魂... e ho avuto il tunnel di diffusione let's go Let's go man, let's go! We got the difference! They can't win They can't come Wait, put Let's go Why the f**k are you pushing together? Why the f**k are you pushing together? You can't do it 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 Mayday! Mayday! I'll be hit Is this your problem dude? The f**k are flashed Come on, keep call out! Oh, let's go, let's go There's 4 right there, aspetta I was identified He's up in the middle He's dead There's engines He's still terrifying No no... I'm away weg and He was an enemy Luke's He's fine What's going on? 2 0 6 6 6 7 7 6 7 user disconnected from your channel non trovatela ma albert le sto guardando io le ca anche mira alberto alberto l'ultimo automatico che non si ricorda ritmo del cat che ne è uno che è verde oh ma questo dov'è? no, sai te il fianco dai che te lo facevi ma io non capivo, sentivo il rumorino, dov'è? venga uno sta girando eccoci infatti porta in fondo a sinistra lei sai che ti non veniva entrare dentro la stanza? non stare qui su bravo gli altri due sono fuori motoslip dai, bella, bella mi voleva, lui quant'è? ho entrato Che bello far rigare un mino decorando Viste? Ha rotto la cam Mamma mia un'altra forte questa persona Troppo forte Secondo me quello lì pensava veramente a questi sciolico, sai? Io sì, l'ho pensato veramente Poverino Mamma mia Devi aprirti la Devi coprire però Prima Quasi il giugno Niesto in posizione NICE Oye, l'hai cattolato One is f***ing lit He's in the back NICE TEAM All up The user, the user, the user One up, four remaining The user The user, the user The user The user One up, four remaining You located a bomb The blast Ready One up 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 ringy. Here. Let me get that for you.